Nella sua nota ha parlato, le cito testualmente, dei disastri prodotti in economia sul lavoro, sulla crescita, sullo sviluppo. È una foto di gruppo dei dicasteri riuniti sotto il nome di Luigi Di Maio? No, questo francamente non ci avevo pensato. Sono i dati dell'Istat che ci dicono che è aumentata del 98% la cassa integrazione, che la crescita era 1,7-15 mesi fa e ora è 0. Sono dati che non io, ma l'Istat, ai me, drammaticamente conferma. Poi la parola disastri sta nella polemica politica, però se la vogliamo cancellare la sostanza non cambia. Non era riferito a un'accusa particolare a qualcuno?